C'è Virginia Raggi che dice grazie a Conte e a Di Maio che ci hanno messo la faccia, loro che dicono un risultato straordinario, ma quella notte l'hanno lasciata sola, Virginia Raggi, sono andati di corsa da Manfredi a Napoli, tutti e due. Non è che è stata proprio una scena bellissima? No, sicuramente no e sicuramente questo fa parte di questo periodo in cui la politica è molto comunicazione per cui probabilmente si è andati lì dove si poteva in qualche modo spendere una vittoria, che poi non è solo una vittoria e forse direi anche non prevalentemente una vittoria del Movimento 5 Stelle perché i risultati a Napoli sono buoni ma non sono eccellenti, siamo la terza forza politica dopo il PD e dopo addirittura una lista civica di Manfredi, siamo sotto il 10%, in campagna elettorale si è detto saremo la prima forza in coalizione a Napoli, però di fatto Manfredi era un ministro del governo Conte quando anche io sedevo in Consiglio dei Ministri, per cui sicuramente c'era un entusiasmo per una vittoria alla quale abbiamo partecipato. Detto questo credo sì, sicuramente che la Raggi si sia anche sentita diciamo sola in un momento complicato come quello, però va detto che sono convinto che Virginia effettivamente rispetto anche a molte previsioni che facevano commentatori, sondaggisti e altro a Roma abbia comunque riscontrato, abbia comunque dato prova di avere ancora un consenso nella città importante. E ha dato prova anche un po' di mettersi di traverso forse, è stato un po' minaccioso quell'intervento che Paolo Mieri ha sentito anche nella diretta della Maratona. Sì, più che minaccioso.